Il maltempo sulla costa tirrenica non ha risparmiato proprio nessuno. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno allontanato turisti e vacanzieri decretando un luglio in rimessa, se parliamo ad esempio degli stabilimenti balneari. Tutto è in base alle temperature qui. Un'estate pazzoide come questa penso non è mai esistita. Sul litorale pisano, partendo dal Calambrone fino a Marina di Pisa, la situazione non cambia. Abbiamo avuto un luglio, che io credo che a memoria mia non è mai stato così, giugno è stato così e così, e quindi abbiamo avuto delle riduzioni notevole di presenze, soprattutto di movimenti giornalieri, ma anche gli stagionali non sono venuti, quindi il ristorante, il bar, il self-service hanno lavorato pochissimo. Sono calate le presenze del 50%, io credo un 40% solo per un discorso di pioggia, di cattivo tempo. La stima, secondo i dati approssimativi, ma comunque abbastanza precisi, è quella di un calo di presenze di un 30-40% sugli arenili e addirittura di un 50% per i pubblici decisi sugli stagionali balneari. Si spera in un agosto assolato per salvare quanto rimane, ahimè, di un'estate che verrà ricordata per i suoi capricci atmosferici e per una perdita economica recuperabile in non meno di tre anni.